Estra diventa proprietaria del più grande parco fotovoltaico pubblico toscano, l'impianto di Cabiglia e Tegolaia, realizzato sui 43 ettari dell'ex area mineraria di Santa Barbara. Sprigiona una potenza di 17 megawatt. Solo il 12% sa leggere le bollette di luce e gas. È la fotografia scattata da Estra nella ricerca condotta con l'Orient Consulting. L'indagine rileva che il 59% individua l'importo della luce, mentre solo il 28% conosce i costi del gas. Estra venderà il metano anche in Sicilia e Calabria. Estra Energie è subentrata a Gala nella gara Consip per l'erogazione nelle due regioni di 45 milioni di metri cubi di gas all'anno. Estra Prometeo sostiene la prossima stagione del Teatro delle Muse di Ancona. 11 spettacoli, 100 protagonisti da non perdere, dal musical Mamma Mia alla prima del Nome della Rosa di Umberto Eco. 12 spettacoli, 11 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 spettacoli